Continua, non permetteremo che la loro avarizia, la loro immoralità e la loro reprovazione ci facciano ancora del male. Ma ho scelto le patatine, mettiamole via. Ma che cavolo, ok. Ok, ok. E vedi, non è di compensa disponibile. Oh sì. Oh cane. C'è una munizione. Eh madonna, ma ho fatto da lì a lì a saltare da lì a lì, scusa. Un attimo da questo. Solda, cavolo. Oh, Merl. Merl Briggs. Ah, non Merl Dixon. Ah, cazzo ne frega. Tutta questa frutta matura sta attirando gli orsi. In circostanze normali li cattureremmo per liberarli da qualche altra parte. Ma c'è che figata sta felpa. Ma questi orsi sono entrati in quel gaudio. Born to be wild. Sta facendo diventare brazi. Ah, beh, dai. Per catturarli è troppo pericoloso. Dobbiamo abbatterli. Gli orsi. Ma che disi scemo. Dove cazzo stanno? Raggiungi il frutteto. Ho un trattore. Raggiungi il frutteto. Sta qua. Ma va a tocchiapare un colpo. Quello è un orso. Eccolo. Orca pupazza. Che sei pazzo? L'ho preso? No, quello sta seguendo a me. Orca troia. Via, via, via. Via, via, via. Ma sei scemo? Taggi. Oh, pezzo di merda. Ti sparo così, ah? Eh, morto. E pensi che ne è uno solo? Posso spiegare la pelliccia? Pelle d'orso nero. Perché lo vedo bianco? Che fa, domani? Eh, nella zona di ricerca. Cioè? Qui? Poi nella zona di ricerca, ma? Ah, questa qua. Quello è un orso. Ottaccio. Tu, Vicasso. Oh, oh, oh. Oh, questo sta attaccando a me. Sto stronzo. Ah, finale. Che male. Ah, aiuto. Oh, il cane. Eh, mo scappa. Ma c'è, te, non è male. Guarda, guarda, come scappa. Guarda, come infelisce. Ehi. Ehi. Morto. È un'altra andata. Due punti di tratto ottenuti. E dove sta gli altri, però? Che è successo? Hai completato la... Ah, ho guardato la prima sfida. Completato la terza sfida è per ottenere due punti di tratto. E sbloccare nuovi tratti. Che cazzo ho fatto? L1 per i tratti. Cioè? I tratti sblocchano i gadget abilità che ti consentono di potenziare l'inventario degli specialisti. O le specialità, comunque. Uomo, pesci. Uno, tipicamente, è per tenere il fatto sul tacco più a lungo. Poi. Sblocchi il paracarote. Vabbè. Sblocchi il rampino. E questo? Borsa, combattimento radvicinato. Troppo punizione per pistole e armi da mischia. Funziona anche in arcade. Questo lo voglio. Bravo. E orca lo ha. Pacchetto viaggio. Ma che è qua? E voglio nuotare più velocemente. E posso più stare sott'acqua. Ok. A posto. Ma l'altro verso... Oh, ecchilo! Schiappa ancora. Che cazzo? Ah, sono agenti chimici del cazzo. Oh, umore, umore! C'era con me. Pazzo, ma... No, c'ho un colpo! E mo' c'ho un colpo. Preso, morto! Stronzo! Eh, mi fai squagliare il... No, quel rigore. Ah, no! Arriva un colpo! Buttato via così. Ma fammi vedere se qua c'era qualcosa da te. Ma che cazzo vedi i muri che fanno... Ma che cazzo sta succedendo? Sì, è pieno di... Ma perché vedo tutto così? Ma magari questo mi parla pure, no? No. C'è qualche porta, qualche entrata, no? C'è... Mamma mia! Ma vedete, io dove si vede così vomiterei all'istante. Allora... Niente, lui sta a mangiare... A posto. Allora... E' una mappa. Dove si va di qua? Ah, il fattorio è zucche, ok. Questo cos'è? Merbrix. Poi c'è... C'è il biatto della coda bianca. Fruttetti. Qua c'è un silo da buttar giù. Widow Creek. Che cavolo è? Ok. Langford Lake. Mamma mia! Questo cos'è? Andiamo da Merbrix. Merbrix? Dove stai? Eccola. Prendiamo a finire i colpi. Là c'ho l'arco, basta che c'ho l'arco. Certo, 10, va bene. Dice che trovo un cervo. Gli placco una freccia nella testa. Oh, 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 chi è? Dammi la cica. Aspetta, aspetta, c'è qualcun altro. No, è morto questo. Oh, chi è? Ahia. C'è lì con me? È andato via? È tornato qui, eh? No, 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 è morto. Ah, cazzo, è morto il tizio. Ah, è morto il tizio. Cazzo, volevo salvarlo. Vabbè, pazienza. Ah, qua ci sono le piante. Può essere l'altra pianta? No. Guarda, ti voglio capire una cosa. Ah, sono nemici, ok. Mmh. Erano totalmente nemici. Mmh, mmh. Vediamo, torna lì e fanno prima. Mamma mia, tanta gente. Eh, lì ci sono due persone, mamma. Devo fare altre cose. Posmo liberare tutti quanti. Questo ha piedi. E che cazzo posso fare a piedi? Mmh? Che cazzo è? Prendi. Prendi. Uh, dinamite, dinamite. E non mi vado a cogliere. Dai. Avrò già. Ah, dinamite pieno, infatti. Che cavolo stai fai? Boom. No? Uido, tic. Ah, ho avuto attivato qualche trappola. Viverò. Io ci ho preso la canna da pesca e ancora ci ho avuto a pescare. No, non mi siamo a 99. Cos'è? Campo, caravan, silver lake. È occupato da nemici? Non lo so. Non... Dove cazzo sono sti nemici? Dove cazzo sono sti nemici? Che bella macchina là sotto che c'hanno. Eh, ma c'hanno... Eh, è c'ho caduto da giù. Arrivata, arrivata. Vediamo un attimo il cane che cosa gli fa a questi. Che gli fa il cane? Orca troia! Oh, il cane no! Bravo. Bravo cane. Mappa. Questo. Che cazzo? C'è l'arcade. Ehi, non lo sapevo. Allora. Che c'è? Accadezza. Sì, mi lecca, lecca, lecca. Bravo. Allora, salviamo lui. Salviamo lei. Salviamo Eugene. Ok. Parliamo con questo. E' anche un coglione, no? Dove è la tizia? Ok. Ok, Zip, zaccuda. C'è lui. Mi pentò. Mi pentò. No. No. Ormai non cambia niente. So solo che abbiamo della gente da proteggere. So come vendicarsi della solda. Ma se vogliamo fare le cose per bene, ci serve il dead wish. E' il mio fuoristrada. Piatti mortale. Piatti mortale. Piatti mortale. Vai alla US Auto a recuperarlo. Io terrò al sicuro questa gente. Si vediamo là, così possiamo spaccare il cuo a questi tempi. Ma che cazzo di musica è? Ma che cazzo? Premi i gol. Ma dove è che I Wanted pure? Ah, sono io. Allora, che cazzo di canzone è? Ma davvero? Ah, lei se ne va via la macchina. E... Cos'è sta roba? Cos'è questo invece? C'è un saccheggio. È liquore. Alla salute. No. Dove cazzo interagisci? Ah, no. Interagisci mi fa interagire qua. Che cazzo è sto cosa? Apri Arcade. Ma che cazzo è sta roba? Ma cos'è? C'è? Ma cos'è? Ci sono tante per me. Ma che? Ma che sono? Puttati, gioco a farlo dalle mappe. Ma cos'è? Ah, no, no. Se esco dalla... No, no. Se esco dalla... Se esco dalla campagna faccio un'altra volta. Guarda. Cioè... Quindi... Ehm... Un'altra volta ho avuto la rabbia. Ma sono guarito. Vabbè. Una volta ho avuto la rabbia ma sono guarito. No, spostamento rapido no. Cos'è qua? Cos'è questo posto? C'è un... Posto di blocco immagino. Allora. Qui c'è un silo da buttar giù. Questo cos'è? Un pick up, un quote. Ne ha buttar giù il silo va. Anzi. Vuoi vedere una cosa? Vuoi andare qui. C'è il piatto della quoda bianca. Ehm... La faccio in macchina? Eh, mi sa di sì. Mamma. Ah, no. Chi ha un diario lì? Oh. Perché lei come fa a entrare? Va da solo! Ah, ma va da solo perché è il tipo di guida. Di opposizione lui va da solo, ma... Posto. E il cane mi da così. Va da solo, proprio. Va da solo destinazione. Sì, il cane mi da così. Con la macchina. Viano, 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 viano. Hai superato, sai? Hai superato, mattacci, due. Ah, cosa ci senti? Guardate, do close. Don't block gate. Eh. Ma mi sa che si scivola giù, eh. C'è ripiatra della coda bianca, ma non lo vedo. Eh, piano. C'è un pio un cazzo. Visto... Due ce ne sono, no? Ma che cosa serve a cacciare? Io lo faccio tanto per... C'è un aeroplano davanti? Vuh. Vabbè. Eccolo. Io non so neanche se la freccia ha... A colpo, lì. No! È scappato! Eccopato! Tacci tua! Ah, c'è un cervo là in fondo. Ma non so se è in mezzo agli alberi. Eh, merda di sì, eh. Cazzo, non ho visuali di tiro. Eccolo qua. Eh, non so se sta sotto o sta sopra. No, ma perché il cane va lì? Eh, lui va lì, tranquillo. Come non ci fossero domani, no? Aspetta. No, vedi? Ah, ci sono nemici qua. Io? Ma l'ho preso? Ah, la voce ho preso. Pensavo di no, che non l'avessi preso. Cacciare, ma ne prendi le loro pelli e le esche. Equipaggio ne esca tramite il rotere. Lancio la prima e pratica dei predatori, Che attaccheranno una peta più vicina. Succidire animali con la mia mischia. Otterrai più esche e pelli. Ok. Ah, quindi l'ho preso. Io pensavo di no. Che cos'è quello VIP invece? No! Ma te sei scemo? Ma è una data in mano. Allora, com'è che faccio mo? Menu tutorial qua. Allora. Dov'è che è mo? Non i combattenti. Ma l'ho visto adesso, me l'ha detto. Bene, bene. Potrebbe essere esplosivi e disottini? Ah. Bene, bene. Cazzo, l'ho letto prima. Cos'è? No, questo sapevo già. Oh, minchia. Puoi stare sul lato plano? Lo so. Non ho letto. Non ho letto. Non ho letto. Domino degli avamposti, cioè? Ah, ok, ok. Allora, c'è una cosa. No, perché sbaglio? Dov'è l'esca? Dov'è l'esca? Odigena, che me ne faccio, odigena? Lo metto in testa? Ma cos'è che è? Vabbè. C'è la canna da aprire? Sì, ma io volevo... I pugni va bene. Ok. Esca, eccola qua. Ah, tienite muto. Gettate le rinze per i pesci. Ma non ho scelto quello, ho scelto questo. Ah, se può che cincione, eh? Esca. Uccidi vipe della setta per... Per si metano? Oh, aspetta un attimo. Chi è arrivato? Che cozzo è? È un lupo? No, vabbè, ma come hanno fatto a vedermi? Ti è. Oh, oh. Motto. Il pepe della setta è ucciso. Ce n'è un altro? No, l'ho mancavo. Preso la gamba. Motto. Sì, quello scappa, però. Sì. C'è il pesce in mano, si mette. Questa cosa è il vaticano. E' il lupo, invece. Ma perché? Perché? Vuoi pigliare una cosa e te ne chiapa un'altra. Il lupo che hanno ammazzato, lo so. La freccia... Gli hanno ficcata sopra il culo. Questo cos'è? Ancomo. Innesco... No? Che è qua? Nigozio. Nigozio di che? Ah, barchi, idrovolanti, oggetti. Sto vendendo gli oggetti per il 1200. No. Ah, ce li ritrovate qua? Allora. Mi dà, mi dà la canna da pesca, io non capisco perché. L'uoco scoperto... mollo. Che è? Ma è il lupo? Niente, zero, si capisce? Ma ancora posso prendere. Un attimo, vuoi pescare, no? Eh, qua c'è la canna da pesca. Certo, c'è la canna da pesca, no? Ok. Pesce lì. Ma, scusate. Un attimo. Oh, è vero che questi qui... Sono attratti dal movimento. Andiamo. Eccolo. Eccolo. Allora. Devolgi il muorello, imprendendo le due, sfianca il pesce, tirando la direzione opposta al suo movimento. Quando devolgi il muorello, sfianchi il pesce, aumenta l'attenzione della renza. Se la renza diventa rossa, metti il dirvoggio il muorello. Ora, renza... Oh, quando il pesce è stanco, dirvoggi? Prima che recuperi le forze. Allora, quindi. Ok. No, sono caduto di sotto. Ma che è? Ma perché è caduto di sotto? Oh. Eccole. Ma l'ho fatto, ma... E la cosa diventa rossa, scusa. Trota iridea. Iridea. Porca miserante grossa. Che è successo? Minchia, 12 e 35 litri, andate se scemo. Buttiamo un'altra lenza. E la vendiamo. Eccole, 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 eccole. Un punto attra... Oh, che carina è lì. Ma come mi faccio ad avvolgere? Oh, che carina è lì. Oh, che carina è lì. Ancora, un'altra cosa. 12 e 19. Ma... Facciamolo poi in fondo. Uiii. Uiii. Mamma mia, ragazzo, la butta. Ecco, 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 eccolo. Ecco le... E' sempre una trota iridea, no? E' l'idea? Eh... 12.87. Vabbè, vabbè, vabbè. Cazzo, una di voltella. Allora... Andiamo un po' dove cavolo andare. Io qua... Ah, devo andare di qua. Qui. Di lì. Ah, no, aspetta, c'era un tratto da... Dove cavolo è? No. Qui. Diario, roster, eeeh... Tratti, eccoli qua. C'è quello della pesca. Ehm... I peci si stanno più velocemente, sblocchiamo nuovi tipi di esche nello slot canna da pesca della tua... Ok. Se no cosa c'è? Di taggiri, procreare oggetti, sabotare, ripiazzare trappole, Rattivare gli allarvi, aprire le casse frattive rapidamente. Cos'è che... Ok. Ti muovi molto più velocemente ed accucciato. Ok. E questo? Boomer si riprende più rapidamente dopo essere stato ferito. Facciamo... Ehm... Questo qui. Oltre punti così... Non più che bene. Ii, che sovante cazzo di pesci devo... Devo trovare. Allora... Eh dai, però... Che cos'è quello là in fondo? Ma che cazzo? C'è una persona sott'acqua. Non c'è più. Allora... Io devo capir... Per che cazzo... Oh. Oh. E che cavolo? Come ci si metteva sott'acqua? Oh. Eh, muovere. Ah. Eh sì. Una volta più veloce... Molto più veloce. Vai. E lui? Matatelo. No. 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 Eh, oh. Oh, prendo. Ma... Presto. Doe stai il canale qua? Ah, io non ho sparato Che che hai sparato? Che che hai sparato? Ah, il Silos Brava Allora, qui c'è il Silo Voglio buttare giù Chi è? Ah, un cecchino No, salve Non mi hai sentito Ok, già Ah, mamma, mamma Ma che cazzo si urla questa? Mi è scema Allora, ammi, questa com'è Ui Boh Che miseria Tranquillo Andiamo Come si va? Allora A fattoria ci sono già stato Scute dei Brapper Ponte delle lacrime Ma che cazzo Un attimo Ah, ma che cazzo è da sbattere? Ah, andrà dritto Voglio girare Ok, questa con non mi cesse rompere Ma l'acqua Posto Mi spacca tutto Spacca tutto Ma che animista? Sì, lui mi segue Ah Ah C2 Ok, lasciamo uno qui Tanto manca poco Ma dove sta sotto? O sta sotto? Locazione E si allontana Giustamente Vediamo se muore Cosa delle armi Ok, ti ammazza Ciccio Bello Lì Oh Preso Ok, quelle di Puma Prendi Ah, Lupinus Ok Oh Aspetta un attimo C'è un Sono Oh Cazzo Sbom Ok Posso prendere anche Pelle di serpente è buona Eh Puro di dirlo ma Un promo Lo fa prendere Ti fa prendere la pelle di serpente Erano sonagli Sì Mamma mia Che mazzo Eh Qua c'è gente Però Preso No Che cazzo Ha Avercima Ah Figlio di Guarda adesso Mi ha ammazzato Chiunque Scometti Cioè Ho preso E non è morto Ma perché Ma perché Miseria Preso Perché il cane Io non gli fa un cazzo Oh Oh Antichezza C'è Stanno Eh Cazzo Preso Ehi Antichezza Ne scendo No Boom Preso Invece 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 Ok Devo andare Su Si c'è un coso del prep Mado Ah Cazzo Non è rampino Dove Sare per forza Su Fin in cima Fin in cima C'è un rampino In vicinanza Blocca il tratto Non posso Non ho I punti Non ho i punti Sennò ho sblocato Un attimo Ah no Ho un punti Un o tre Ok Blocco anche questo Su a posto Cos'è che va La tuta l'area Sfascegata C'è un po' Eh Ora ce l'ho Posso andare solo Com'è che è Rampino Sali C'è un rampino Sembra di giocare A Dead Stranding Con Chiodo Arrampicata Allora Aspetta un attimo Mi diceva che c'erano Amici davanti a me Cervi L'ho preso Mora che muori Ciao Ho perso la freccia Allora C'è un animale Un lupo Una volpe Non capisco Cos'è Sì Abbiamo rubato le scotte Abbiamo nascosto Tutto ai viloni Del ponte Ci vuole un bel tempino Per arrivare C'ho Ma c'è qui vicino Ma dove? Oh mica capito Nei piloni del ponte C'è? Difficile che prendi Cosa qua Ma non capisco Allora Dove è? Dove è? Dove è? Nei piloni del ponte Oh c'è qualcosa qua Ok Olio di gaudio Oh mamma No 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 Volevi Cacchia gava Non posso prendere altra roba Ah Queste sono cose luccicate Altre munizioni Il piloni del ponte Questo è troppo per me Me ne vado Ah c'è qua sotto Il piloni del ponte Scusa Ma che cazzo è sto cosa? C'è un pilone che È mai caduto No mica capito che c'è Non voglio farmi spruzzare Ah spruzzare perché Penso che ci sia una pulso Che lampina Scendi giù Scendi No mi cazzo scende veloce Guardalo qua Guardalo qua Stacca Guarda E come faccio a guarda A ganciarmi là Eh? Chi è? Ma lo sapevo Ma è una puzzola? Cos'è che è? È una puzzola Ma ti sciolto Mi sciolto Pensavo mi scioltassi E ho detto Boh Pelle di puzzola Ma perché il nemico scappa Dal Boh Non ha senso Non capisco Non capisco Chi è questa? Sembra che la setta Stia raccogliendo Tutti gli animali selvatici Presso la coppia E' un'altra Perché mai dovrebbero farlo? E che cazzo ne so? A me me lo chiedi Ehm Ma detti I piloni del Boh Non ho capito Iniziavi di trovare le scorte Ma dove sono le scorte? Sono qua vicino Boh Quindi dovrei salire su Mamma mia Una freccia in testa Fa male Mamma mia Ma poi in faccia Civile salvato Dove? Dove ho salvato il civile? Non lo so Ah Qua è il civile Boh Oh E te fermi C'è il punto esclamativo In testa Suo amico Suo amico Mi è stato detto Che Grace E' nascosta Alla chiesa Dell'agnello di Dio A cecchinare i diniti Spero che abbia qualcuno Che le guardi le spalle Grace Armstrong Ma che posso usare Sto mitra? Sì Allora Vedete uno come fa Perché non ha senso Ma che fa uno a usare Ah guarda qui C'è qualcuno qui Perché? Perchè? Ma ho paura che sia ancora dietro A uno dei suoi esperimenti Dovremmo controllare Che vada tutto bene La solda La setta ti ha portato via qualcuno Vero? Ce n'è uno a mani nude Sono tutte mani nude Togli Togli lei e metti quella Rimuovi Sì E metti lei Dai Diana Ambrose Vabbè Sì ma Sì ma Scusi Ma com'è chi si va giù? Adesso Una volta avevo un cane come il tuo Oh che cazzo Eccolo Sì ma io ho sparato Non so quanti cazzo i colpi C'è quello è un cane Sì Ma che è un more Oh ma che è Ma io ho sparato Spero palloni E' morto adesso No no Qua E' fai morto Mi spiace Ok Non capisco come fare quella cosa lì Aia Boh Forse che riesci Innesco C'è Ma che cavolo No Ma è qualcosa che sta morendo Adesso 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 Dove l'ho acceso Anche se è pieno di No 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 Ma chi è morto? Ma chi è morto? Non sapevo che c'era un nemico Non sapevo che c'era un nemico Si vede un nemico Si vede un cazzo Ma finchè non beco qualcuno qui Eh ma qui in su Come faccio ad andare lì volando? Boh Magari ho trovato le scotte Ma Eh Non ci arrivo Ma che cazzo è? Ah altri tratti Punti disponibili 4 Ok Attanchiamo di più il pesce E sono a posto Guarda Ostras C'è lui Il diario Cos'è che è? Trovo le scotte Intorno ai piluni del ponte Capito? Non trovo niente Ah Che miseria Non riesco a salire sopra Ma come faccio? Volo? Un attimo Che mare C'è impossibile che Non ci sia un modo per arrivare La sopra Scusa A parte che anche la sopra Come cazzo ci si arriva Ma come cazzo ci arrivo? Sì Vabbè Ma non ci arriva lì Ah un sassolo Oh Posso buttare il sassolo nell'acqua Ma qui dove sta? Ma si Sei morto Il puma Il puma fa male Ehm Impostazione Non so che cosa sia No Non ho mica capito Ah Non ho capito niente No No Non ho mica capito Che cazzo Ma che cazzo Ma ma pure le visioni C'è il mio personaggio Ma che Vabbè Lascia stare Ignora questo Per il momento Eh Non si capisce Allora Mappa Devo andare Cosa c'è Distilleria di sidro Uno qua Ecco Oltre indietro A mille anni Cosa c'è qua sotto? Cos'è questo? Un bidone? Cosa c'è qua Un bidone Con i drinking water Ah Visto che I cervi Non mi sarebbe Pia un cazzo Allora Mi largo Se mi parte la fecella Io non faccio Prendi cosa? Ancora la senape Ma dove cavolo Vedi i nemici? Non mi sarebbe oh no c'è un puma interesso c'è un po' che ho visto le stiliere di sidra Ma qua cazzo tutto. Ma che mi ridi eh. Ma io ti volevo teggiata è una mano. Ma io vado a parlare con lui. Il vecchio Riddler è un eroe di guerra. Puoi venire qui a un tiro di sputo? Vorrei parlarti. Il vecchio Riddler è un eroe di guerra. Alla sua età non si tira indietro di fronte a un combattimento. Spero che non abbia iniziato a litigare con la setta. Buona fortuna vice. Questo cos'è che è? Ancora non ho letto eh. Molto imminente. Fate attenzione altamente esplosivo. Boh. Cioè? Al silo. Che cazzo. Non è questo scemo. Non posso prendere nessuno. Non mi piace. Oh. Sia lodato i signori. Grazie. Posti di blocco e controlli. Mi sono arruolata perché la mia famiglia non vivesse cose del genere. No. La mappa. Allora. 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 Sì. 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 Lo vede. Eddio. Ci guiderai da qui. Lo troveremo. Lo puniremo. Poi c'è questa. È la volontà del padre. Sì. Cosa è successo? Al termine è saccheggiato. Ma. Non ho fatto niente. Ah ma capivi così. Hm? Che è? Hm? Willis Huntley. Ma che cazzo fa? Vieni qui Vice. So chi sei Vice. E so cosa stai facendo. Sono l'agente speciale Willis Huntley. È da un po' di tempo che Mr. Pezzo Grosso tiene d'occhio l'Eden's Gate. Mi ha conferito l'autorità suprema per gestire il problema. Ma quegli sfigati senza peli sul petto della CIA mi hanno detto che siamo nella scena di cocco. Quindi devi fare qualcosa per noi se vuoi il nostro aiuto. Quindi in ottemperanza delle più recenti norme igieniche una mano lava l'altra. Sali in macchina e ti spiego. Ciao. Ero in vacanza e stavo visitando tutti i 50 stati dal meno patriottico al più patriottico e ho ricevuto una chiamata. La chiamata. Sono stato inviato qui in missione dal Pezzo Grosso in persona. Cristo a pedali mi viene duro anche solo a pensarci. E perdona il francese. Devo recuperare una videocassetta che se pubblicata lo metterebbe in pessima luce col pubblico. Ho scoperto che ce l'ha un membro dell'allegra famigliola di Joseph. L'ha nascosta da qualche parte e qui entri in gioco tu. Io lo attirerò allo scoperto. Tu lo seguirai fino al suo nascondiglio e poi mi prenderai quella videocassetta. Fallo per il tuo paese e il tuo paese risolverà il tuo piccolo problemino con la setta. Ma dove devo andare? È lì sopra. Immagino. Ma dove devo entrare là dentro, no? Devo accedere all'attrezzatura in questa torre. Liberami da questi hippie dell'Apocalisse. Allora... Ok, posso entrare da qua. Non devo metterli senza tutti, sono là. Mamma mia, che male. Scendi, scendi. Scendi, scendi. Bravissimo. Bella giornata per correre. Mi farò 5 miglia prima di dormire. Bene. C'è chi? Non c'è un tizio là in fondo. Mi hanno toccasciato veloce. Così. Madonna. Ma non è da questa, no? Ma ce n'è un'altra. C'è un cecchino e c'è il mitra. Abbiamo accumulato montagne di ore. Più di quanta ce ne servirà. Nulla ci fermerà adesso. Mamma mia, gli ha spezzato il collo. Eh, ti spezza il collo, questo. Uno. Qu'è la mia? Non c'è la mia. Ma è tutto pieno o che cazzo mi fa pure affa'? cazzo mi fa bene da fare se è tutto uomo è stato che tu stai giù e quindi mi piace qualcun altro e si 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 resta uno qua sotto il problema